VPN, una parola che avrete sentito spesso, soprattutto se siete frequentatori di canali YouTube che parlano di tecnologia. Ma vi sarete anche chiesti, funziona veramente? Mi serve davvero una VPN? Beh, nel video di oggi rispondo a queste e tante altre domande. Iniziamo! Metto subito le cose in chiaro per la massima trasparenza. Questo video è sponsorizzato da CyberGhost VPN, ma questo non mi impedisce di spiegarvi in maniera chiara quando e perché dovremo utilizzare un servizio di VPN. E naturalmente scopriremo insieme quale succosa offerta ci hanno riservato nel caso voleste provarla. Che cos'è una VPN? L'acronima in questione sta per Virtual Private Network, in italiano una rete privata virtuale. Una tecnologia che esiste da moltissimo tempo e che in particolare veniva utilizzata per lo più dalle aziende che necessitavano di poter accedere in sicurezza ai dati contenuti nella rete aziendale anche dall'esterno. Nella concezione moderna di VPN invece non serve solo per collegarsi alle reti aziendali, ma serve anche per collegarsi in maniera sicura ad internet in modo che nessun occhio indiscreto possa vedere i dati che stiamo scambiando in rete. Ora che abbiamo capito che cos'è una VPN, cerchiamo di spiegare in maniera semplice il suo funzionamento. Quando navighiamo normalmente in internet dalla wifi di casa o peggio da quella di un bar o di un aeroporto, per prima cosa inseriamo l'indirizzo web di destinazione sul nostro browser. A questo punto il nostro operatore prenderà in carico questa richiesta e ci farà collegare direttamente al server che ospita quel determinato sito web, che ci invierà i dati necessari per permetterci di visualizzarlo correttamente. Ecco, questa tipologia di collegamento è completamente inchiaro. Quando utilizziamo una VPN invece, ci collegheremo ad uno dei loro server che andrà a crittografare tutti i dati in entrata e in uscita, per garantire la massima sicurezza dei nostri dati. Immagina questo come un tunnel virtuale che attraversa internet. I tuoi dati viaggeranno attraverso questo tunnel, rimanendo inaccessibili per qualsiasi individuo o entità che cerchi di intercettarli, rendendo quindi la nostra navigazione completamente sicura anche su reti meno sicure. Quindi, come potete capire, la prima cosa che ci garantisce una VPN è proprio la privacy e la sicurezza dei dati. Ma non tutte le VPN sono sicure, facciamo attenzione. È già successo in passato che alcuni servizi di VPN gratuiti abbiano avuto delle violazioni dei dati, che altri invece abbiano venduto di proposito i dati dei clienti. Quindi, come possiamo navigare serenamente? Appoggiandoci a servizi come quello di CyberGhost VPN, uno dei leader del settore con oltre 38 milioni di utenti, la cui affidabilità è garantita anche dalle migliaia di eccellenti recensioni degli utilizzatori su Trustpilot. La loro politica è quella del no log, ossia non archiviano alcun dato relativo alla nostra navigazione con la VPN, così da garantirci il massimo della privacy. Naturalmente poi la VPN andrà anche a mascherare il nostro indirizzo IP, che sommato alla crittografia avanzata dei dati che passano per il tunnel, ci offrono la tranquillità di poter navigare in modo sicuro e senza preoccupazioni. A questo punto, quando e perché dovremmo utilizzare una VPN? Il suo utilizzo è molto versatile e potremo avere la necessità di utilizzarla in diverse occasioni. Ad esempio, l'utilizzo di una VPN è importantissimo non tanto quando navighiamo dentro casa nostra con il nostro wifi, ma soprattutto quando ci colleghiamo in mobilità connettendoci a wifi pubblici o a reti sconosciute, all'interno delle quali i nostri dati saranno estremamente vulnerabili. Un altro grande vantaggio di utilizzare un servizio di VPN, come quello di CyberGhost VPN, è quello di avere la possibilità di collegarsi ad oltre 10.000 server sparsi per il mondo, in oltre 100 paesi differenti. Che cosa significa? Che avremo la possibilità di collegarci ad un paese differente dal nostro in modo da poter accedere a siti magari bloccati nel nostro paese o accedere a contenuti disponibili solo in altre nazioni. Potreste ad esempio accedere ai cataloghi delle più importanti piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e molti altri, ovunque vi troviate. Infatti, spesso alcuni contenuti come film o serie TV potrebbero non essere disponibili nel catalogo del nostro paese e collegandoci con un server in un'altra nazione potremmo renderli visibili. Potrete quindi sfruttare al massimo il vostro abbonamento al servizio di streaming e assicurarvi anche di non perdere mai i vostri programmi preferiti quando viaggiate all'estero. Ma non finisce qui. Infatti, tantissimi siti online, come quelli delle compagnie aeree ad esempio, rendono disponibili offerte diverse in base alla nazione. Quindi, perché non provare a fare un giro per i vari server sparsi per il mondo in modo da risparmiare sul vostro prossimo viaggio? E oltre ai voli, potrete risparmiare notevolmente anche su alloggi, noleggio auto e abbonamenti vari, semplicemente cambiando la vostra posizione virtuale. Ci siamo, non mi resta altro che farvi vedere l'estrema semplicità di utilizzo di CyberGhost VPN. Basta aprire l'applicazione, che è disponibile per praticamente tutte le piattaforme, Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Smart TV e console di gioco. Scegliamo il nostro server preferito in base al paese a cui vogliamo collegarci e con un solo clic saremo connessi e sicuri. E come se non bastasse, con un solo abbonamento a CyberGhost VPN potremo proteggere fino a 7 dispositivi diversi simultaneamente. Insomma, potremo condividere l'account con tutta la famiglia. E se doveste avere problemi nell'utilizzo, cosa praticamente impossibile, c'è un servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ed ora, per concludere in bellezza, veniamo all'offerta. Utilizzando il link che trovate qui sotto in descrizione, potrete avere CyberGhost VPN con uno sconto dell'83% sull'abbonamento di due anni, solamente 2 euro e 10 centesimi al mese più 4 mesi gratis. E potete stare tranquilli, perché se il servizio non vi soddisfa al 100%, avete la garanzia esclusiva di un rimborso completo entro 45 giorni. Provate CyberGhost VPN e non ve ne pentirete. Bene, spero che il video di oggi vi sia stato utile per capire meglio l'utilità delle VPN. Lasciate pure i vostri dubbi, consigli e perplessità qui sotto nei commenti. Come sempre, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like e iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche, per non perdervi altri contenuti come questo. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.